sul riso rosso fermentato ne ho già parlato in diversi video che ho fatto sulle proprietà sui dosaggi e sugli effetti collaterali e vi lascio nelle schede la playlist dove potete trovare questi video oggi vi volevo parlare di quello che è successo con il nuovo regolamento europeo 2022 860 del primo giugno del 2022 poiché noto che c'è tanta confusione tra le persone che utilizzano integratori alimentari a base di riso rosso fermentato come molti di voi sanno il contenuto di monacoline e in modo particolare di monacolina k che risulta il principio attivo funzionale del riso rosso fermentato è stato ridotto a meno di 3 milligrammi al giorno negli integratori alimentari inoltre è sempre secondo questo nuovo regolamento sull'etichetta degli integratori alimentari a base di riso rosso fermentato devono essere inserite delle prescrizioni aggiuntive che vi lascio in tabella in particolare l'etichetta deve recare il numero di singole dosi di prodotto per l'assunzione massima giornaliera e un'avvertenza non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 3 milligrammi di monacoline da riso rosso fermentato l'etichetta deve specificare il tenore di monacoline per dose di prodotto e deve includere le seguenti avvertenze non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento dai bambini di età inferiore ai 18 anni e dagli adulti di età superiore ai 70 anni consultare un medico sul consumo di questo prodotto se si manifestano problemi di salute e in questo caso vi lascio il link nelle schede dove ho spiegato gli effetti collaterali potenziali del riso rosso fermentato non deve essere consumato se si assumono medicinali per abbassare il colesterolo non deve essere consumato se già si consumano altri prodotti contenenti riso rosso fermentato questo perché ci può essere una sommatoria del contenuto di monacoline di ogni singolo prodotto e si potrebbe superare la dose di 3 milligrammi che è considerata appunto con questo nuovo regolamento il motivo di questa riduzione di dosaggi si deve ricercare nelle caratteristiche chimiche della monacolina k la quale di fatto è una statina e in modo più specifico è equivalente alla lova statina sulle statine ne ho già parlato in diversi video e vi lascio nelle schede il link alla playlist dove troverete tutti i video a riguardo come dicevo la monacolina k in forma lattonica è praticamente identica alla lova statina per questo motivo tra il 2006 e il 2018 la commissione europea ha richiesto all'autorità europea per la sicurezza alimentare di formulare un parere scientifico definitivo sulla valutazione della sicurezza delle monacoline nel riso rosso fermentato da questo parere sono emerse numerose incertezze poiché l'autorità non è stata in grado di definire una dose di monacoline che non destasse problemi per la salute umana in quanto sono state segnalate effetti collaterali sia con dosaggi di 10 mg al giorno che con appena 3 mg al giorno di monacoline a tal proposito per ridurre il più possibile gli effetti avversi delle monacoline la commissione europea ha stabilito una dose giornaliera inferiore a 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato negli integratori alimentari e le monacoline sono state inserite nella legato 3 parte b del regolamento 1925 del 2006 con le relative restrizioni sul loro utilizzo che vi riporto di nuovo in tabella inoltre è stata inserita nella parte c ovvero in quella delle sostanze sottoposte a sorveglianza della comunità la voce monacoline da riso rosso fermentato questo significa che le monacoline sono sempre sottoposte a sorveglianza speciale per valutare i loro potenziali effetti collaterali sull'essere umano spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto a condividerne i contenuti e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti